Buongiorno a tutti i miei video su Bluestars Oggi giocheremo a varie cose a seconda del tempo che ci rimane E mi raccomando iscrivetevi al canale mettete like assolutamente Ok eccoci qui aspettate che alzo bolline 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 Ok eccoci qui aspettate Ok eccoci qui aspettate che alzo bolline 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!